alla vigilia della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che si celebra il 20 novembre il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile promuove tre giorni di incontri ed eventi nazionali a roma dal titolo con i bambini cresce in italia dedicati ai temi del contrasto della povertà educativa riguardante l'infanzia e l'adolescenza con particolare riferimento al disagio degli adolescenti e alla promozione del protagonismo delle nuove generazioni l'iniziativa rivolta principalmente alla comunità educante nelle sue diverse articolazioni con il duplice intento di approfondire e condividere aspetti rilevanti nel nostro comune lavoro di contrasto al fenomeno della povertà educativa e rappresentare la complessa e diffusa azione messa in campo dal fondo l'iniziativa con i bambini cresce in italia è legata alla campagna non sono emergenza promossa dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minore che affronta il tema del disagio degli adolescenti in modo informativo attraverso i dati le esperienze e soprattutto l'ascolto diretto di ragazzi e ragazze